Il baseball I giocatori stanno giocando a baseball Guardando e aspettando, guardando e aspettando Un colpo! La palla incontra la mazza L'ok sul ghiaccio I giocatori stanno giocando a ok sul ghiaccio Pattinando e passando, tirando e pattinando La box L'uomo sta praticando le sue abilità nella box Dando pugni e muovendosi, colpendo e dando pugni Il football Le squadre stanno giocando a football Placcando e mancando, correndo e muovendosi La corsa di automobili Le macchine sfrecciano nel circuito automobilistico Sfrecciando e frenando Frenando e sfrecciando I giocatori I giocatori stanno giocando a baseball I giocatori stanno giocando a hockey sul ghiaccio L'uomo sta praticando le sue abilità nella box Le squadre stanno giocando a football Le squadre stanno giocando a football I giocatori 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 stanno giocando a football